Vi trovo la strada 43, il Comune con i Marzi. Ecco questa è la 43 e guardiamo il passaggio del Comune con i Marzi, così in grandezza diciamo naturale. E adesso vi faccio vedere il mio bel paese. In grandisco piano piano, ancora di più, ancora di più, ancora di più. Questo è il mio nuovo telefonino, questa è l'estrema periferia che va verso il Trasacco. Questa è la strada poterale. Guardate quanto è bello, come si vedono bene. Non avevo mai ingrandito, utilizzato questo mio telefonino con maggior ingrandimento. Guardate, piano piano, mettete la ferma immagine e osservate. È abbastanza stessa, in proporzione alla popolazione, circa 6.000 abitanti. E soprattutto si trova ai piedi della montagna, quindi ha un polmone verde, il Comune di Luco dei Marzi. Guardate quanto è bello. Ecco, guardate i particolari. Anzi, devo andare ancora più piano. Vabbè, qui finisce il panorama. Oh, ma se la sono grandita un'altra bocca, eh? Sì, così ho ingrandito al massimo. Quindi, ritorno indietro, piano piano, pianissimo, per farvi vedere questo mio meraviglioso paese. Luco dei Marzi, provincia dell'Aquila. A Regione, a Abruzzo, ci troviamo nell'altipiano del Fugino. L'occhio con la sua parte, vedete? Se adesso io rimpiccolisco, non si vede quasi niente. Guardate, adesso rimpiccolisco. Di più, di più, ancora più piccolo, più piccolo, più piccolo. Ecco qui, vedete? Così si vede una vaga sfumatura, non si vede bene. La tecnologia avanza e quindi la utilizziamo. Questo non è l'ultimo modello del Fugino. Questo c'è qualche anno. Va bene, torno a casa.